E' il 1997, esce un nuovo videogioco, si chiama Carmageddon. Nel gioco tu interpreti, proprio tu, interpreti un pilota che deve partecipare a una gara e nella gara si vince facendo più punti possibile e per fare più punti possibile devi investire i pedoni. I più giovani e ingenui di voi pensano, è una figata mostruosa, è una cosa violenta scorrettissima, non vedo l'ora di giocarci per far preoccupare i miei genitori e pensano soprattutto che è impossibile che possano fare un film da un gioco del genere. E invece non solo si può fare, ma era già stato fatto ben 22 anni prima. Sigla! Professioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di cepponi e di 400 calci! Io l'ho preso subito quando è uscito, non so te Staglio. Assolutamente sì. C'avevo già vent'anni, ma ancora l'idea di far preoccupare i miei genitori mi gasava a bestia, per cui lo comprai subito. Sì, sì, poi ti dicevano, è il gioco in cui investi le vecchiette e fai punti. Porca miseria. Cioè l'idea di girare in macchina e investire la gente e fare punti è parte, credo, dell'immaginario collettivo di ogni sano, dello scelto italiano. Ogni persona l'ha pensato nella propria vita almeno una volta alla settimana. Quindi secondo me non c'è niente di male a pensarlo. Detto questo, no. Io però il film, non so te, ma io quando è uscito Carmageddon, il film Anno 2000 alla Corsa della Morte lo conoscevo già, ero gasatissimo. Alla fine Carmageddon era un misto tra Anno 2000 alla Corsa della Morte, un po' più Mad Max, se vogliamo, come ispirazione estetica di certe cose, o delle auto, ma alla fine no, le auto più o meno c'erano. Insomma, inventava comunque molte cose. Non era ovviamente il videogioco ufficiale del film, era una cosa tutta sua, l'ispirazione era straplateale, ai limiti della denuncia, però inventava tantissime altre cose ed era un gioco molto divertente che ha avuto un meritato successo, direi. Ma al punto che inizialmente, cioè il gioco nasceva come gioco ufficiale di Death Race 2000, cioè lo sviluppatore aveva comprato i diritti all'inizio, perché loro avevano già fatto un giochino del genere, hanno detto vabbè, però è la stessa roba, provarono prima a prendere i diritti di Mad Max, poi acquisivano Death Race 2000, poi la cosa andò per le lunghe, insomma, i diritti, alla fine scadettero cose e casine, e quindi loro dissi, vabbè, però l'idea ce l'abbiamo, facciamo un gioco, comunque, non diciamo che è il gioco ufficiale di Death Race 2000, però di fatto poi lo è. Sì, sostanzialmente mantiene le autopazze, mantiene investire i pedoni e fare i punti, ci aggiunge comunque un miliardo di cose, cioè secondo me ha tutto il diritto di esister come entità a sé, mettiamolo così. Sì, sì, poi erano gli anni in cui ne uscivano, cominciavano a uscire tutti questi giochini qui da, c'era Twisted Metal, c'era Destruction Derby, c'era uno che si chiamava Quarantine, che era il Carmageddon col taxi, tu avevi il taxi dovevi andare con i passeggeri e intanto investire la gente. Quindi un misto tra Anno 2000 e Taxi Driver. Esatto. Che bello. La cosa più divertente che ho scoperto, però, mentre indagavo sul film, è che comunque Carmageddon, cioè, usciva, insomma, nel 97, però nel 1976, quando i videogame erano di legno, però già c'erano, era effettivamente uscito al volo il videogame di Anno 2000, la Corsa della Morte. semi-ufficiale, nel senso che, da quanto leggo da Wikipedia, non era ufficiale, però si chiamava Death Race, e nel 76, c'è il gioco, ve lo giuro, esiste davvero, trovate il gameplay su YouTube e tutto quanto, ed era esattamente come vi immaginate un gioco del 76, è così, con le stanghette, porca miseria. A me questa cosa, che nella storia dei videogiochi, hanno inventato nell'ordine Pong, il tennis, il calcio, che poi era Pong, ma con due omini invece che uno, e poi Death Race, poi no, Invaders, immagino, spesso Invaders era un altro, e poi il gioco dove sei l'auto, che devi investire i pedoni, che ne potete vedere un paio, uno in alto a sinistra, un altro in basso, sempre a sinistra, è un mondo, è un mondo bellissimo, e diventa, leggo, il primo videogioco, che fa già protestare la gente, cioè, i videogiochi a casa, ce li hanno in sette, ma già la gente protestava, è bello, per la presentazione troppo realistica, della violenza, credo, esatto, porca miseria, cioè, alla fine era, era per sublimare, non lo so, hanno dovuto pixelare il sangue bianco, comunque non vi ho ancora salutato, amici e amiche, che ci state seguendo, benvenuti, alla puntata numero 185, della 400 live, questa sera, come avrete capito, vi parliamo di, anno 2000, la corsa della morte, un film del 1975, di Paul Bartel, ma prima di proseguire, passiamo subito, alla burocrazia bella, e ringraziamo tantissimo, ecco qua, il primo mi sembra che sia questo, grazie mille, a Alien Delon, per l'abbonamento, di livello 1, poi, grazie mille, a The Mat Bat, per l'abbonamento, per il ventunesimo mese consecutivo, questi numeri che aumentano, mi fanno sentire veramente, sono contento, cioè, sono contento, per poi, perché ci date l'occasione, per dare degli schiaffi, a suonunque, in questo momento, sono contenti, e ne approfittiamo al volo, per ricordare, come funziona l'abbonamento, l'abbonamento funziona, che, ci fate molto contenti, ci fate molto contente, le nostre mascotte, ovvero, Tulsa Doom, e poi, un bel capro, e poi, Paolo Gucci, mentre invece, uno che non è contento, per esempio, è che ogni volta, che succede questa cosa, lui piuttosto, se ne va, è John Travolta, Travolta ha detto, no, davanti a queste cose, non ne vado, questo è troppo, ah, questo è l'apporto, con gli abbonamenti, lo dovevo usare, per far vedere, che non siamo sempre, chiusi nel passato, ma seguiamo anche, l'attualità, e, poi, sempre, per quanto riguarda, l'abbonamento, chi si abbona, non vede la pubblicità, durante le nostre dirette, ma soprattutto, si raddoppia, il valore, del voto, quando, al giudì sera, tipo questa sera, a fine serata, assegniamo, il premio Jimmy Bobo, al nome più ridicolo, che abbiamo trovato, nel cast, nella scheda IMDB, di, anno 2000, la corsa della morte, se siete abbonati, ai nostri canali Twitch, il vostro voto, vale doppio, molto bene, facciamo anche, facciamo anche questa, di burocrazia, che mi sembra importante, ah, sì, grandissimo, Johnny Totoro, che ci dice, colgolo, che bisogna ringraziare, Cristiano Leprandi, o tutti, i 400 calci, la preziosissima, sta privata, ricordiamo, che, giovedì scorso, durante la puntata, dedicata a Rollerball, Johnny Totoro, è stato il più veloce, rispondere alla domanda, difficilissima, che aveva fatto, Cristiano Leprandi, per cui ha ricevuto in omaggio, una stampa di Rollerball, sono occasioni, che capiteranno, di nuovo in futuro, non sappiamo quando, sappiamo solo, che ricapiteranno, quindi, continuate a seguirci, e, allora, la prima cosa da dire, è, appunto, ricollegarci, alla puntata, della settimana scorsa, con Rollerball, e, questo perché, c'è la puntata di stasera, sostanzialmente, un fratelli di sangue, a distanza, e, perché, sono due film, che sono accumulati, da una cosa molto banale, ovvero, anno 2000, la corsa della morte, era letteralmente, la risposta economica, a Rollerball, ovvero, era, era quello che fa, cioè, che fa, l'asylum, non so neanche se lo fa ancora, immagino lo faccia ancora, però, da quando è finita, la saga di Sharknado, abbiamo un po' abbandonato, l'asylum, a se stessa, non è più riuscito a trovare, un cult, di quelli che, sfondavano i confini, e, e finivano nel mainstream, però, insomma, girano ancora, fanno ancora, le loro cose, e sappiamo tutti, che il loro, la loro politica, diciamo, in realtà, è una politica, un po' imposta, nel senso, che loro, comunque, sono cose che fanno, ma che gli pagano, gli commissionano, e, e che loro iniziano a girare, solo quando, gliel'hanno già pagate, cioè, quello, la cosa che magari, non tutti sanno, è che l'asylum, economicamente, è, più o meno, una botte di ferro, perché, insomma, sono famosi, diciamo, come uno studio, capace di girare, prodotti, di un certo sottogenere, molto velocemente, a bassissimo costo, e, per cui, i film, vengono commissionati, cioè, per lo più, dal sci-fi channel, occasionalmente, a qualcun altro, però, è così che agiscono, e i film che fanno, sono, il più delle volte, un individuare, quelli che saranno, i grandi successi, dell'annata cinematografica, nell'ambito, dell'action, della fantascienza, dell'horror, e cercare, di girarne, una loro versione, lievemente diversa, diversa, quel tanto che basta, per, insomma, per sfuggire alle denunce, e, possibilmente, uscire prima dell'originale, è una cosa, di cui si parlò, tantissimo, a suo tempo, ai tempi di, quando noi, facciamo le recensioni, tipo di, 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 si, no, quello, si, quelli erano, quelli erano, già più originali, perché comunque, Megashark, non era un ripoff, di niente particolare, erano, insomma, loro comunque, hanno campato tantissimo, sul filone mostri giganti, quando, Hollywood, più di tanto, ancora non li faceva, però, facevano uscire, questi, questi ripoff, cioè, mi ricordo, che c'era quello di, io sono leggenda, che si chiamava, io sono Omega, perché, richiamava, il vecchio, ce l'hanno fatta, veramente tutti colori, hanno fatto, Atlantic Rim, Atlantic Rim, che voglio dire, Indian Rim, Antarctic Rim, Mediterranean Rim, con i robot, con la balla del coquato, tante cose puoi fare, esatto, eh, cos'altro avevo fatto, ne volevo dire, un altro bellissimo, ah beh, Snake, Sona Train, Sona Train, era eccezionale, uno dei loro migliori, e insomma, comunque, non avevano inventato niente, era una cosa che faceva già Roger Corman, negli anni settanta, forse anche prima, però insomma, quello che faceva Corman, Corman era la stessa situazione, sapeva di, essere in grado di girare film velocemente, per lui era già più difficile, riuscire a fare qualcosa di vicino, agli originali che lui imitava, anche perché, all'epoca non c'era internet, internet, internet era, non solo era di legno, ma era anche a pedali, quindi c'era una cosa veramente scomodissima, e, per cui insomma, doveva basarsi più che altro, su voci di corridoio, su agganci, cose varie, magari qualcosa usciva, sui giornali specializzati, quando le grandi produzioni cercavano, che ne so, mettevano annunci per cercare, ruoli minori, cose di questo genere, però insomma, dovevano fare veramente gli squali, su questo tipo di scarse notizie, e cercare insomma, di capire cosa avrebbe avuto successo, e anticiparlo, e, quando Corman viene a sapere di Rollerball, dice, pure io, e decide di, va immediatamente alla ricerca, di un altro racconto, futurista, distopico, cinico, sportivo, violento, per cercare di, anticipare Rollerball, e, trova questo racconto, che si chiama The Racer, l'autore è Ibe Melchior, Ibe Melchior che ho visto la sua scheda, e ha fatto un sacco di cose interessanti in carriera, però siccome me le so scordate, adesso o me le rivedo al volo, oppure ve le linko, ve le linko nel report, come faccio sempre, no, penso abbia scritto, ho letto da qualche parte, che ha scritto un sacco di novelizations, o cose di questo genere, comunque, vedo che, vabbè, come sceneggiatore ha fatto altra roba, è segnato più o meno, cioè, come insomma, uno degli autori originali, dell'origine di The Trace, e quindi accreditato in tutti, in tutti i sequel, però ha fatto anche proprio, ah, ecco cosa aveva fatto di molto interessante, lui faceva, lui faceva gli adattamenti dei dialoghi, le traduzioni dei dialoghi, e aveva scritto praticamente la versione inglese, inglese, di quello di Bava sui vampiri, Planet of the Vampire, che è in, pure dei film italiani, mi ricordo, in inglese, sono veramente, terrore nello spazio, terrore nello spazio, di Bava, e il Melchior era quello che aveva preso il copione ai dialoghi del film di Bava, in italiano li aveva tradotti in inglese per fare l'adattamento, per la versione doppiata, e comunque insomma, aveva scritto questo racconto chiamato The Racer, e non sono riuscito a trovarlo, ho solo letto dei riassunti velocissimi in giro, e quello che mi pare di capire è che sostanzialmente si immagina questo futuro, è ambientato in questo futuro dove lo sport più seguito sono le corse, non sono riuscito a capire se c'era già questa cosa di fare punti investendo i pedoni, era sicuramente comunque uno sport violento, c'era comunque della violenza coinvolta in qualche modo, però il racconto si concentrava su una scena sola, ovvero quella di una giovane fan del protagonista, il protagonista è il pilota più famoso dello sport, e questa giovane fan insomma appezza il protagonista, insomma si dichiara fan, dichiara insomma tutta la sua passione per lui, per lo sport eccetera, e si offre sostanzialmente di immolarsi per lui, per cui è letteralmente una scena sola, è una scena che Corman incorpora nel film, però Corman deve costruirci letteralmente tutto il mondo intorno, tutto il resto, la trama completa eccetera, e fa questa mossa insomma di ingaggiare Paul Bartel, che all'epoca era in rampa di lancio, però grazie a questo film insomma è diventato, come lo definiresti Paul Bartel? Un autore satirico? Sì, uno specialista di film di macchine? Non necessariamente, specialista di film con David Carradine di macchine? E Mary Warnoff, questo sì, mi ha comunque fatti più di chiunque altro nella storia del cinema. Sì, questo sì, no, però ho fatto anche altre cose, ho fatto Eating Rowl, che era bellissimo, io poi mi ricordo scene di lotta di classe a Beverly Hills, che era un'altra cosa che uscite negli anni Ottanta, che non era male, insomma, è uno di quelli che ha sempre fatto satira, black comedy e quel tipo di cose, e tra l'altro è anche uno che, insomma, lo trovate a fare da comparsa in un miliardo di film insospettabili, cioè Paul Bartel è veramente una di quelle fazze che ogni tanto mi guardo un film a caso e compare lui a fare una comparsata, fatta veramente una malattia. E niente, Paul Bartel tira fuori questa roba, questo script incredibile, con una miriade di idee, una più folle dell'altra, e come raccontarlo? Ma in realtà, cioè non lo scrive neanche lui, lui dirige, però insomma, si sa che fu una, cioè ufficialmente non è accreditato come scrittore, però fu un lavoro di gruppo, con dentro anche Corman, eccetera, Corman era fissato duro con le automobili, Corman era preso proprio il compito di, non di inventarsi, cioè, sì, di inventarsi sostanzialmente le automobili della corsa, comunque lui era uno di quelli che ci teneva di più a contribuire, e addirittura in puro stile Friedkin, le scene distante più pericolose le aveva girate lui come pilota, e per cui, insomma, era veramente un'impresa folle. Prima di proseguire, però salutiamo gli ultimi abbonati, perché ci sono stati almeno un altro paio di abbonati, mi sembra di vedere, ce l'ho qua, salutiamo e ringraziamo fortissimo Fabio89BG, per l'abbonamento di livello 1, e ringraziamo anche Gabritore1 per l'abbonamento per il ventesimo mese consecutivo, si accumulano gli schiaffi su Anucati, quanti c'erano a me, io direi innanzitutto di farvi ringraziare da, perché non ho tolto il commento, maledizione, farvi ringraziare da Tulsa Doom, e poi da un bel Re Caprotti che ci sta, e anche Paolo Gucci, perché non è qui. E poi cominciamo a tirare gli schiaffi, a Timoteo c'è la messa, non ne usciamo più, eccolo, eccolo, vada lì come lo chiamano. Veramente, veramente. Operato al volo, scusa, la foto della tizia, della scena, del racconto da cui è tratto, cosa? Ah, ok. Ecco la notizia. Lei è la figlia di Paul Bartelli, che lui ha detto, gli mancava un buro dettaglio, piccola Wendy, vieni a fare questa scena in cui ti offri a un tizio che tu pensi essere deforme, ma in realtà è un buon atto. Vabbè, adesso racconteremo la trama un po' in fila, o almeno i protagonisti un po' in fila, però c'è in questa foto. Aspetta, è arrivato un altro abbonamento, facciamolo subito che siamo caldi. Ok, a voi, ringraziamo fortissimo Giuda81 per l'abbonamento di livello 1 e per te i ringraziamenti a come va, di Tulsa Doom e poi di Caprum. La cosa che volevo menzionare subito erano i costumi, a me queste cose fanno impazzire, cioè non so te, però tu vai dal costumista e gli dici mi serve una maglietta per una che è una fan di Frankenstein, cosa potrà mai indossare una che è fan di Frankenstein? È una roba che puoi fare con pochi soldi, una maglietta con la F, che cazzo devi indossare? Che è già un po' rovinata, se vedi si stessa un po' staccando la stampa. Esatto, poi la F comunque è tipo un Arial Bold, proprio fammi il disegno per la maglietta, ok? Shift, fatto. Prima va dietro, aspetta che vado in laboratorio e te la preparo. Esatto. Fanno 250 dollari. E una percentuale su merchandising. Staglio, vuoi cimentarti nella trama? Nella trama? Allora, a parte che scusa, ho scoperto al volo che non è la sua figlia ma la sorella. Ah, la sorella, ok. Quindi, vabbè, però comunque. Effettivamente, vista l'età che va Paul Bartel, sembrava un po' anziana per essere già sua figlia. Però, vabbè. La trama, la trama è che la prendiamo alla larga geopolitica, perché c'è stata, questo è un mondo del futuro post-apocalittico, distoppico fondamentalmente, almeno negli Stati Uniti, nel senso che c'è stato un grande crollo, non meglio specificato, ma che ha partito dall'economia e ha coinvolto immagino l'intera società, che ha fatto precipitare gli Stati Uniti dietro nella civiltà di decenni e quindi sono finiti sotto il pugno dittatoriale, ma tutto sommato benevolo, almeno così si presenta, del presidente, il quale, come tutti i presidenti distopici, per tenerseli buoni, gli dà non tanto il Panem quanto il Circenses, che in questo caso è la grande corsa di macchina, la Transcontinental Road Race, che Transcontinental suona fingissimi, in realtà vanno da un capo all'altro dell'America, cioè sì, è transcontinentale, però sei sempre all'interno dello stesso, ed è una corsa di macchine senza regole, o quasi, nel senso che vince chi arriva primo, ma vince anche chi fa più punti, i punti si fanno, come detto prima, investendo la gente che passa, ed è, a differenza di Rollerball che in cui c'era uno stacco, insomma, c'era il pubblico e c'erano i gladiatori, qua diventa una cosa che sostanzialmente coinvolge chiunque, cioè c'è la gente per strada che fa tipo la corrida con il drappo rosso e lievita l'ultimo, ci sono quelli che devono scappare nei tombini, ci sono i percorsi fatti apposta per beccati, tipo là c'è l'ospedale, c'è quella scena assolutamente incredibile in cui fanno la prima deviazione perché di lì c'è l'ospedale, l'ospizio per anziani in cui fanno l'eutanasia annuale e mettono tutti gli anziani in mezzo alla strada per fare, cioè, delle cose non smettono più e di fatto poi la trama è c'è la gara c'è la gara noi conosciamo il protagonista e poi insomma succedono delle cose ovviamente nel corso della gara però il film inizia con la presentazione della gara e con la presentazione dei piloti dura il tempo che loro fanno tutta la cosa devia pochissimo si stacca pochissimo dalla strada tranne le due volte che fanno una sosta e quando ti fa conoscere i partigiani perché poi c'è il movimento sotterraneo della resistenza che vuole combattere contro il presidente quindi ha tutto un suo piano complicato però di fatto è come un Mad Max cioè loro vedevano andare dal punto A al punto B a differenza di Mad Max non tornano neanche indietro sì allora una cosa che bisogna che faccio subito ho scoperto di essermi scritto un nome troppo lungo che se sto fermo mi copra io mi ero chiamato Machine Gun Nanni Cobretti in onore di Machine Gun Kelly il fidanzato di di Megan Fox perché è un musicista che ammiro però insomma è un po' troppo lungo quindi adesso lo cambio ecco adesso dovrei tenere una posa normale no voglio dire un sacco di cose allora la prima forse per dare subito l'aria che tira a livello di satira politica è una cosa che mi ha allora innanzitutto nel giro di tipo 45 secondi la telecamera in quadra fa il pubblico un tizio con la bandiera con la svastica al volo al volo quello è l'inizio 30 secondi ti sei appena seduto in poltrona stai aprendo i popcorn e c'è subito uno con la bandiera con la svastica questo per far capire va bene esci subito e sei avvisato l'altra cosa che 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 mi ha fatto impazzire è che stazialmente raccontare che il presidente degli Stati Uniti in realtà ha sede fuori dagli Stati Uniti sì è vero è bellissimo è come Zhang con l'Inter era la stessa cosa è la stessa cosa mi ha fatto morire c'è questa cosa che anche a livello politico il presidente può permettersi di di essere il presidente di un paese ma avere la residenza dov'è che ce l'aveva in Giappone mi sembra forse in Cina addirittura esatto comunque nell'Oriente esatto perché poi ce lo dicono dopo cioè qua spoileriamo diciamo subito quindi adesso comincia a fare riferimenti al finale però quando quando nel finale dicono e poi si è deciso che il presidente degli Stati Uniti riporterà di nuovo la residenza all'interno del paese è fantastico è bellissimo cioè ti dà veramente al volo insomma il tocco che ti dipinge tutta la situazione all'istante sì è in Erasmus sì è veramente una mitragliata sto film non passa un secondo senza che tra l'altro i nazisti non li possiamo far vedere vero non lo so cioè li censurano perché l'inizio comunque effettivamente allora sono lì se li vogliamo ora i nazisti sapete come sono fatti non c'abbiamo non c'è bisogno esatto li possiamo far vedere tutti i vari presentatori dello show perché comunque anche quello è un momento incredibile cioè è un film che ha la sequenza iniziale in cui ti presenta i piloti in modo figo ma è tutto talmente figo che anche i presentatori della gara e i giornalisti sono presentati come dei personaggi super fighi cioè lui il papa sì che poi è vestito come papa ma ci sono rimasto male che non lo chiamino papa anche se è chiaramente il papa lo chiamano diacon ovvero il diacono generico portano esatto non so se il papa non aveva concesso i diritti per non ha firmato la liberatoria esatto poi c'è tipo lui che ti spiega la cocaina allora lui allora nei crediti lo trovate accreditato come the real Don Steele si chiama Don Steele ed è un famoso DJ uno dei DJ più famosi d'America fin dalla metà degli anni 70 ma anche non vorrei dire che è l'amadeus americano senza tu niente si torna sia sempre lì siamo basta e lui è bellissimo cioè lui veramente ti fa capire perché no lui è eccezionale secondo me è come minimo nella top 3 dei migliori in campo secondo me sì 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 assolutamente poi c'è da dire che c'è questa cosa curiosissima del film che comunque tutti i piloti sono fighi sono tutti stracaratterizzati a parte la pilota nazista che non vi faremo vedere ma poi alla fine quello che spicca di più di tutti è uno che non era ancora famoso cioè sì era in piena gavetta e però nel senso fa una prestazione da da villain che sta alla pari col protagonista esatto facciamolo vedere facciamolo vedere il giovane gardenzio ce l'hai ce l'hai comodo? sì 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 eccolo qua per esempio ma sono sicuro che ce n'è uno anche prima sì 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 che bello che è questa forse dove lo vediamo scusa perché quelle anteprime sono piccolissime io mi dimentico sempre di dare il nome facile però è questa quando lo conosciamo così conosciamo anche la sua bella navigatrice e lui è bello è giovane si presenta con una cravatta rosa dovrebbe essere uno degli altri che alla fine dovrebbero tutti più o meno fare da spalla David Carradine ma lui è lui cioè sì è l'antagonista ed è quello che si divora le sue stesse scene lui è in full Nicolas Cage prima che Nicolas Cage cominciasse una carriera cioè incredibile ora aspetta volevo far vedere un'altra immagine perché secondo me è la più bella sua e la sto scaricando adesso però prima di far vedere l'immagine vi faccio vedere un trivia sul film che è quello che secondo me tutti vi siete immaginati eccolo qua si è stato all'anno e si è scritto i dialoghi da solo lui ancora non era nessuno ancora stava facendo Gaetta però da subito lui si riscriveva i dialoghi lui cagava il cazzo finché non gli feceva riscrivere i dialoghi dei suoi stessi personaggi insomma ci sta voglio dire allora aspetta un attimo quando mi sta protestando fammi tirare via queste che abbiamo già fatta vedere adesso la metto siamo molto pieni di foto siamo imballati di cose però insomma secondo me l'immagine più bella sua è questa non solo perché è già Rambo 2 praticamente lui è già Rambo 2 dieci anni prima di Rambo 2 cioè scena uguale ma l'altra cosa bella è che lui entra così lui entra lui si sente il più figo di tutti si incazza perché la gente tifa per Frankenstein che è il pilota rivale che è l'eroe della storia di cui parleremo tra un po' la prima cosa che fa è che si incazza con i tifosi per cui si alza prende il mitra e smitraglia i tifosi che altro deve fare ci sono tanti modi per agire no certo quella è effettivamente una possibilità non è uno che perde tempo a chiedere all'arbitro se sospende la partita perché abbiamo capito che non ci si può contare perché si poi ti fa rientrare in campo subito dopo esatto e c'è lui risolve risolve così smitragliando tra il pubblico al volo tra l'altro io lo guardavo e pensavo ma se io non sapessi che questo è Silvester Gardenzio Stallone ma fosse un caratterista random non particolarmente famoso comunque sarebbe una prestazione clamorosa nel senso non c'è solo l'effetto voltonoto che vedi quando è giovane è proprio a un livello di top 3 cioè la top 3 dei migliori in campo per me è lui Don't steal e poi il terzo mi devo decidere terzo io ho delle idee però sì sì il terzo si può dibattere non so parliamo di parliamo del nostro eroe del nostro eroe insolito è lì forse l'idea più più bella del film perché anche il mistero che scopri a un certo punto cioè lui ti viene rappresentato come Frankenstein in quanto ha fatto talmente tanti incidenti che ormai è sfigurato ma cioè a parte che viene raccontata con una tale quantità di assurdità che sembra cioè è chiaramente una parodia fortissima cioè mi hanno tolto ho perso il braccio nel 76 e la gamba destra nel 77 e non ho più sembra il presidente di Lloyd Bridges in The Shots è più o meno quello esatto e quindi lui si presenta mascherato misterioso ed è lui è l'unico che ha vinto due volte giusto sì mentre Stallone ha vinto una volta sola e tutti gli altri generalmente per cui lui è un po' anche come Coso in Rollerball cioè come Jonathan in Rollerball tanto è vero che c'è la scena in cui lui vince tutti Frankenstein Frankenstein esatto cioè lui è l'eroe che però è chiaro che è lì da un po' troppo tempo per quanto lui per motivi diversi non è che lo vogliano fare fuori però nel senso lui è un eroe con un motivo ulteriore perché ormai non ne può più perché quando poi lui conosce la sua navigator che questa cosa che io ho molto apprezzato di un paio di governi fa in Italia quando hanno deciso di riesumare da Death Race 2000 la figura del navigator e trasformarla in un ruolo pubblico sì poi non mi pare che sia stata declinata un po' diversamente quindi non ha funzionato uguale però ho apprezzato e siccome la navigator è una bionda strabona alla fine lui si apre e scopriamo tutti i suoi segreti più turpi sì vogliamo far vedere delle immagini cioè alla fine un'idea dietro l'altra lui lui è il Frankenstein come ci viene presentato esatto non abbiamo neanche detto chi è l'attore ancora eh adesso facciamo il reveal della faccia facciamo il reveal facciamo questa suspense su questo film di 50 anni fa 50 anni fa di 49 anni fa dov'è che ce l'abbiamo è che ogni tanto sto cosa si mangia sì c'ha ragione io mi sto vedendo soltanto delle piccole anteprime di lui sempre con la maschera e non quelle senza non vorrei che mi si fosse mangiato allora eh vabbè pazienza la gente non lo saprà mai ah no aspetta eccole qua abbiamo questa per esempio ancora lo possiamo intuire ma non vedere poi abbiamo questa ah no qua c'è ancora la maschera purtroppo però il resto a questo punto a questo punto diciamolo svegliamo ah eccolo sì c'era tutto un climax ci arriveremo però anche il fatto che un film del genere finisca come un matrimonio come la più classica dei romcom lo metto nel mucchio delle idee geniali sì comunque lui David Carradine che era freschissimo di Kung Fu dalla serie Kung Fu cioè ancora non era lanciatissimo come carriera veniva dalla serie Kung Fu e questo era letteralmente uno dei primissimi ruoli se non il primo cioè quando ancora stava cercando un po' la sua strada insomma da protagonista e come i grandi attori comincia mascherato come per esempio il tipo Tom Hardy esatto non so cioè perché comunque anche lui esattamente come James Cann il rollerball anche lui ha un modo di recitare dimesso non lo sono segnato l'ultima volta però carisma della madonna lo stesso assolutamente lui ecco forse rispetto a James Cann che James Cann lo vedi che stava proprio puntando volutamente a quel tipo di recitazione per andare magari contro le attese contro gli stereotipi di quel tipo di personaggio e quindi lo vedi che si è costruito un personaggio così David Carradine è uno che non capisci se recita non dico controvoglia però c'è se c'è il pilota automatico o meno ha un carisma della madonna sa di poterci contare funziona effettivamente se si impegna alla metà comunque raggiunge il doppio di efficacia di tanti altri però ogni tanto ti dà quell'idea lì di essere proprio un po' buttato un po' tipo che pensa anche a ragazza di film a me però facciamo fitta niente tiriamo avanti facciamo quello che mi dicono e mi ha ricordato forse però il paragone non è non regge il 100% però mi ha ricordato molto un Jason Statham in crank per dire come tipo di situazione uno che comunque potrebbe fare l'eroe classico uno da cui ti aspetti che faccia l'eroe classico però è infilato in un film che è pazzo il triplo di quelli che fa normalmente e lui però continua bene o male a fare il suo presaggio stesso non è che si adatta alla pazzia e faccia cosa lui comunque recita come se fosse uno dei suoi film classici cioè proprio ignorando più o meno ignorando la pazzia che c'è intorno esatto sì lui sembra che abbia detto va bene lo faccio alla western e recita come se fosse in un western quel personaggio lì è silente rude ma anche capace di momenti di insospettabile tenerezza è un uomo misterioso però si fa cioè è un po' standard anche perché è circondato da gente che è tutta comunque che in qualche modo sembrano tutti che stanno cercando di farsi notare esatto cioè paradossalmente tipo la pilota nazista è a parte il fatto che ogni tanto urla Sig Heil o Blitzk o queste cose orribili è la meno sopra le righe di tutte sì cioè lì c'è anche l'altra trovata spettacolare allora qua funziona ogni pilota c'è il suo copilota e c'è non ricordo la scena dove specificano la regola ma insomma mi sembra capire che c'è la stessa regola che poi viene esplicitata molto nel remake ovvero che il copilota è lì sostanzialmente con due funzioni entrambe dichiarate sia di aiutare il pilota con indicazioni a mappa i compiti gli va a comprare le sigarette che cazzo ne so qualsiasi cosa gli fa da segretaria che è da fare per da eye candy per il pubblico che letteralmente da partner sessuale per il pilota sono tutte coppie formate in questo modo non mi ricordo di aver visto una coppia omosessuale nell'originale però sono tutte coppie coppie cioè nel senso il copilota è lì per aiutarti durante la gara e poi nelle pause tra una tappa e l'altra una trombata veloce e via per rilassare per sfogare l'attenzione il copilota è esplicitamente lì anche per quello scaricare la dreverina per cui sta cosa che la pilota nazista cioè il copilota nazista che comunque questo nerd timidone però vestito da nazista se siete con gli altri però in realtà è sto tizio qua che tra l'altro leggevo il tizio che fa il copilota nazista timidone è uno che poi si è lanciato in politica mi è sembrato di leggere adesso vado non mi sembra un buon inizio però è diventato famoso facendo il nazista voglio dire avrà fatto carriera politica quando internet era ancora di legno perché se andavano a tirare fuori le vecchie ah porca miseria se l'era mangiato ma ce l'ho il Rick Moranis nazista allora si esatto si chiama Fred Grandi sto leggendo parli di Irene sì a parte quello carriera politica sì è diventato congressman per i repubblicani addirittura e mi sembra di aver letto che ha sposato una parente di Nixon cioè una cosa del genere ah hai capito quindi insomma lanciatissima nel modo più furbo esatto vabbè cioè alla fine chi non l'ha fatta cioè pure Svartanek era sposato una Kennedy c'è questo ma cos'è ecco c'è inizi come nazista e finisci come repubblicano vabbè almeno era un nazista un nazista timido un nazista insomma gli altri personaggi invece questo mi sembra adesso io adesso apro una foto a caso e poi spero di aver capito giusto eccolo sì lui è anche lui giovanissimo e non ancora famoso è Martin Kov oggi famoso come John Chris di Karate Kid e che poi incontrerà di nuovo Stallone in Rambo 2 e quindi un'altra fazza insomma che all'epoca non era ancora nessuno però però fa piacere vederla anche se è letteralmente il primo a schiattare è il primo il primo a cui gli fanno lo scherzone e lo fanno fuori sì però comunque insomma quello che succede che forse non abbiamo detto è che durante la corsa ci sono il pubblico interagisce l'abbiamo detto abbiamo andato a scena dell'ospedale che ha trovato eccezionale è spettacolare però insomma ci sono anche quelli non abbiamo parlato forse dei partigiani ci sono anche quelli che cercano di sabotare la gara per arrivare insomma al presidente degli Stati Uniti in qualche modo perché sanno che Frankenstein il pilota il protagonista è amico personale del presidente quindi quello che fanno i partigiani è infiltrare la loro una di loro come copilota di Frankenstein e poi comunque cercare di sabotare la gara cercare di far fuori tutti gli altri concorrenti in un modo o nell'altro e far scoppiare la rivoluzione sì anche perché il loro piano secondo me si basa su un presupposto che non è detto che funzioni cioè la loro idea è la tipa porta Frankenstein da noi noi lo rapiamo e lo sostituiamo con un altro tizio vestito da Frankenstein così lui vince la gara va dal presidente e lo ammazza però vuol dire che tu stai mettendo un pilota meno bravo e se poi non vince la gara sei fregato beh che è il motivo per cui insomma cercano di far fuori gli altri piloti e anche lì porca miseria cioè i modi con cui fa fuori gli altri piloti è un'idea più incredibile dell'altra cioè c'è quella dove si travestono tutti da donzellette in campagna che fanno il picnic al parco e quando arrivano le macchine abbandonano il bambino perché il bambino vale un sacco di punti se investi i neonati questo è un film dove se investi i neonati e gli uccidi fai un sacco di punti in realtà in realtà il bambino è un bambolotto con una bamba dentro per cui è così che fanno fuori uno dei piloti questo è proprio lui lui viene fatto fuori col bambolotto esplosivo giusto sì martinzio esatto poi ce ne sono tattissi altri modi allora ce n'è un altro che mi sono dimenticato di prendere lo screenshot adesso eccolo qua l'ho trovato incredibile che è il momento vi coiote sì eccezionale cioè quella è una cosa per me è da Oscar da sola nel senso loro prendono letteralmente il finto tunnel e lo mettono al posto sul burrone il cartello con la deviazione il finto tunnel sul loro del burrone è un'idea spettacolare cioè è un vabbè adesso eccolo qua ma che bello sì scusa non volevo interrompere sì no è che no è che un'idea hai detto va che bello pensavo ce l'avessi già pronto eppure no nel senso che l'ho trovato adesso sto salvando ah ok è che siamo veramente al limite con lo spazio dell'immagine quindi tutte le volte c'è da fare la sostituzione eccolo qua questo è il cartello di tour e poi c'è il coso tanto Rollerball era un film molto più serio di quello che sarebbe dovuto essere anche visti i presupposti quanto questo va veramente in direzioni arriva dei livelli che dici no vabbè non so neanche come avete fatto a pensare questa stronzata ma a pensare di realizzarla a non fermarvi è quello cioè il punto è Rollerball c'ha il budget del film del film evento dell'anno con uno dei più grandi registi in circolazione protagonista ultra famosa eccetera ed è su gente che si schiaffeggia mentre pattina e questo che dovrebbe essere la sua imitazione economica fa la gara in giro per tutti gli Stati Uniti con le auto pazze e investono i pedoni gli scenari vabbè all'inizio c'è un fondale eccezionale quando fa vedere la città del futuro che è un fondale dipinto esagerato il resto l'hanno girato tutti in quei posti della California del sud dove ci sono le strade semideserte dove per qualche motivo c'è qualche edificio brutalista sì credo che siano andati nei posti dove hanno girato Easy Rider e hanno girato lì più o meno le stesse strade e ci hanno fatto le cose stupide esatto e poi infatti una cosa che non abbiamo citato ma mi ero preparato l'immagine è comunque insomma la madre di tutte queste idee che è questa sì certo che le wiki races cioè tra l'altro ero andato a controllare non mi ricordavo di che anno erano le wiki races però era del 65 una cosa del genere cioè era di molto prima ci ho pensato perché comunque Death Race arriva prima che esploda veramente questo tipo di film quello delle corse pazze che ha avuto il suo apice che non era neanche sto grafica come apice con Cannonball Race che erano i due film con Bart Reynolds e tutta una serie di guest star incredibili tra cui un Jackie Chan ultra super umiliato in uno dei più ruoli più bartellette che gli potessero dare tra l'altro gli fa fare il giapponese Jackie Chan pensa a te pensa che vanno a Messi per cui insomma Cannonball Race è la corsa più pazzata del mondo la corsa più pazzata in Italia è la corsa più pazzata d'America giusto Cannonball Race comunque insomma è roba dei primissimi anni 80 quindi insomma ci ha messo del tempo per imitare le wiki races e tra l'altro strano che non le rifacciano secondo me sarebbe anche ora di rifarle sì sì è ormai le macchine pazze le mettono solo nei finsteri sì e questa è la cosa bizzare cioè è curioso che Fast and Furious abbia portato tutto solo in una direzione e non anche nell'altra sì in effetti sì nella direzione della follia cioè l'ultimo film di corse pazze così che e futuribili forse è stato Speed Racer sì esatto che però era tratto da una roba giapponese sì esatto quindi non era neanche però è l'ultimo in cui hanno messo le corse futuribili pazze le ultime le ultime volte che le abbiamo viste sono state robe tipo Ready Player One sì Ready Player One che vanno a scala proprio direttamente dai videogiochi esatto però madonna un franchise cioè un Fast and Furious pazzo così e non pazzo cos'ha sarebbe sì ci staranno cioè questa cosa quanto è bella sì quando si mettono a decantare insomma i punteggi che poi i vecchietti sono i vecchietti sono la novità dell'anno questo vuol dire che tipo fino all'anno prima non si potevano ammazzare i vecchietti o davano meno punti davano meno punti no ti fai capire che usano questa cosa qua come cioè secondo me è a suo modo una specie di inizio di The Purge anche sì cioè questo non viene esplicitato però col fatto che ti dicono la novità di quest'anno sono che sono gli anzianotti quelli che valgono più punti ti fai capire che questa cosa viene usata politicamente anche un po' alla The Purge ovvero ogni anno con la scusa della corsa cercano di segare certe categorie sociali per levarsi dalle balle comunque per categorie fragili esatto esatto senti prima di passare al remake perché comunque volevamo parlare anche di quello entro sera sì la domanda più difficile di tutte questa volta è davvero difficile cioè avete conto che questa è una domanda legittima mettendo a confronto un film major costoso con gente che ha sfiorato e ho vinto gli oscar e quella che deve essere la sua copia economica da buttare fuori prima possibile però una domanda legittima sono due film incredibili tutte e due non riesco a decidermi su quale sia più bello forse non è neanche giusto perché comunque sono molto diversi però sono entrambi due dei film migliori come minimo di quell'anno tu riesci a decidere quale dei due preferisci no perché io mi ero preparato questa bellissima sequenza che è la prima volta che loro si fermano perché la corsa è a tre tappe quindi la prima volta si fermano e ti scopri letteralmente questo essendo un film di Roger Corman è anche un film arrapatissimo sì chiaro che per cui ti presenta le pilotesse nude con i loro navigator che gli fanno i massaggi e la giornalista un altro personaggio incredibile tempo tre minuti e si stanno menando sì e poi si passa ai maschi invece che vengono intervistati mentre cioè è talmente da tutt'altra parte rispetto a rollerball che faccio fatica questo è uno dei film più divertenti di sempre per me proprio a livello di inizia e io per un'ora e mezza non stacco gli occhi dallo schermo e ogni secondo c'è qualcosa che mi fa dire oh o altri versi di questo tipo diciamo che se devo scegliere se mi dici una sera a caso scegli quale di due riguardare io riguardo questo poi non so se sia il migliore dell'altro perché all'altro magari ci sono dei ragionamenti da fare più tecnici più critici però opposto che pure questo è girato stra bene nel senso non è un film girato con quattro soldi e si vede cioè gli inseguimenti in macchina sono belli è tutto molto chiaro le macchine esplodono davvero le macchine sono così guarda che bella le macchine con i denti e guarda qua tipo c'è la nebbia questa l'han girata non è che potevano dire è una giornata un po' di merda c'è la nebbia non si vede bene lo facciamo così cioè il fatto che sia grezzo ma girato poi effettivamente su strada è un valore aggiunto non è che lo quindi non lo so diciamo che è veramente un rappresentante di una categoria che oggi non c'è più cioè a differenza di allora per quanto io abbia passato gran parte della mia carriera a difendere Sharknado secondo me è attaccato ingiustamente e ha molti più pregi di quello che la gente in media gli riconosce comunque cioè è ovvio che non c'è paragone rispetto a una roba del genere è esilarante secondo me che giochino tecnicamente lo stesso campionato ovvero quello di essere una proposta super economica che vada insomma che vada a infiltrarsi per giocare la sua per insomma per infilarsi in un filone per anticipare a qualcos'altro di molto più costoso eccetera però tu guardi Sharknado e dici vabbè per quanto vi diverta non è che vi stupisce il fatto che il regista e il sceneggiatore di Sharknado non abbiano fatto nient'altro di rilevante questo invece e questi erano ancora gli anni d'oro di Corman dove lanciava dei talenti fuori dal normale questo è un film che lo vedi dici questo c'è bisogna dargli in mano un budget e fargli fare e fargli fare qualcos'altro e e al contrario non stupisce che Paul Bartel abbia fatto carriera abbia filato almeno un altro classico e sia un sia un cineasta stimatissimo poi erano gli anni settanta erano gli anni in cui Corman comunque lanciava ancora gente come Scorsese Giudante Jonathan Demmey con la gente lì e penso che a corollario di questo c'è il fatto che comunque l'anno dopo immagino per risparmiare per insomma per continuare a usare quello che avevano acquistato con i soldi di questo film girano una specie di film giamello che si chiama Cannonball che anticipa Cannonball Race solo nel titolo vabbè anche un'altra non la so la storia del perché il film con Bartramus l'hanno chiamato Cannonball Run fregando il titolo a Cannonball di Paul Bartel rimane che Cannonball di Paul Bartel è il giamello meno riuscito di questo lui c'ha la mano un po' più solida ci sono dei c'è anche Scorsese che c'è un camion di Scorsese anche che vederlo in un film del genere una roba folla tra l'altro stesso anno di Taxi Driver quindi ha anche senso se vogliamo esatto al concessionario e per cui insomma vabbè meno riuscito poi Paul Bartel si metterà a girare altra cosa però insomma è un altro film che esiste e che se se questo film per qualche motivo non vi sazia sappiate che c'è insomma c'è il contorno detto questo passiamo a quello che succede nel credo che ci siano due abbonamenti da fare ok facciamo che sono successi te lo recupero uno è questo grazie mille grazie mille Agnani per l'abbonamento per il sedicesimo mese consecutivo un altro schiaffo su Anuka Timotation a me da accumulare se l'altro è una mia vecchia conoscenza grazie mille reflusso gastrico per l'abbonamento per il sesto mese consecutivo ti faccio ringraziare da Tulsa Doom poi da Angela Doom come anche lei che è simpaticissima e infine guarda ti regalo un Paul Bartel fuori contesto questo è Paul Bartel in Piranha ah grande uno dei mille film in cui lui fa a proposito di dire se tu guardi un film e compare a Paul Bartel questo è Paul Bartel in Piranha va bene possiamo passare molto bene al migliore esatto allora siamo nel 2008 in realtà ci siamo molto prima per questo è un progetto che parte da lontano si mischiano sostanzialmente un sacco di cose allora mi è sembrato di capire che inizialmente il progetto era partito come Paul W.S. il migliore degli Anderson che vuole fare un film tratto da Spy Hunter il videogioco di cui non ho preparato l'immagine è una roba bella vecchia un'altra di quelle cose di quando i videogiochi erano di legno mi sembra di capire quindi inizia a preparare quello per qualche motivo non la cosa non va in porto e anche lui un po' come quelli del videogioco di Carnegie che non immagino ripiega ripiega su qualcos'altro ripiega sul comprare i diritti di Death Race inizialmente il protagonista deve essere niente meno che Tom Cruise in realtà il progetto viene rinviato per un sacco di motivi e il migliore degli Anderson finisce per farlo con Jason Statham però insomma lo script è una cosa completamente diversa forse si allontana dalla fonte ancora più di quanto lo faccia Rollerball 2002 rispetto Rollerball però ha molte cose simili nel senso che modernizza diminuisce insomma l'ampiezza della storia nel senso che Rollerball ti parlava di una società che ti dipingeva un intero mondo uno sport che era visto un po' in tutto il mondo mentre il remake di Rollerball te lo dipinge come una roba che si gioca solo clandestinamente in una parte dell'Asia e questo in modo simile si immagina una società dove di colpo vanno di moda gli sport violenti però non si immagina che la death race sia una cosa sia uno sport nazionale ma un po' alla running man all'implacabile è una cosa che si fa nelle prigioni di massima sicurezza tra i detenuti che non ha il minimo senso però vabbè perché sono un sacco di soldi che vai a spendere per avere dei detenuti che sanno guidare fargli queste macchine strambe cioè è un'impalcatura logistica beh ma sostanzialmente loro è 1997 in cui i prigionieri all'interno vengono fatti correre sulle macchine cioè loro sono su un'isola prigione completamente isolata dall'esterno che non puoi neanche uscire se provi a scappare a nuoto ti sparano ti fanno esplodere cose però invece che lasciare tutto in mano ai prigionieri come il 1997 c'è la cattiva guardiana della prigione che organizza le corse poi per il resto cioè è un prison movie nel senso se non ci fossero le corse di macchine mai combattimenti nei ring clandestini nei sotterranei della prigione tipo storie ovricchi sarebbe sostanzialmente la stessa cosa il loro impatto sulla società è come dicevi tu del rollerball nuovo cioè loro stanno separati e vengono usati come spettacolo e dati in pasto a un pubblico che di fatto non vediamo neanche cioè noi non vediamo il mondo che esulta per loro noi sappiamo solo che tutto quello che succede in quella prigione viene trasmesso diciamo che non elimina del tutto la politica perché comunque ti racconta insomma di un mondo dove diverse cose vanno a quel paese per cui un sacco di gente perde il lavoro e poi cosa succede ah sì ti parte raccontando proprio con le scritte all'inizio perché con le scritte all'inizio che si inizia facendo i combattimenti tra i detenuti di tipo Mortal Kombat e poi dice no questo film l'abbiamo già fatto vedere era Mortal Kombat probabilmente passiamo direttamente alla fase o magari facciamo un giorno e vi faremo un prequel lo chiameremo Undisputed e questa è un'altra cosa e e passa direttamente alla fase in cui alzano la posta in gioco e cominciano a inventarsi questa cosa ipercomplessa con le automobili che sono mezzi modificati cioè mezzi strambi in più anche la pista è una roba logisticamente incasinatissima quella secondo me è la singola idea più bella di tutto il film cioè le macchine sono armate fino ai denti ma tu non hai accesso alle armi quando vuoi tu devi passare sul pippino luminoso come in Mario Kart per attivare i bonus abbiamo anche una foto del pippino luminoso per cui se vai sulla spadina puoi usare le armi offensive se vai sullo scudo puoi usare le armi difensive tra cui il napalm cioè io comunque ho molta stima delle persone dell'uomo che ha scritto questo film perché no questa della pista interattiva mi è fantastico esatto allora il punto è questo ora per sintetizzare l'impressione che mi ha fatto è che Death Race 2008 sta al Death Race originale esattamente quasi interamente quanto il Rollerball 2002 sta a Rollerball originale con la differenza che l'idea del piffero che volevano girare sono riusciti veramente a girarla è andato tutto bene nessuno ha litigato nessuno ha finito in galera il film l'hanno finito esattamente come l'hanno scritto e soprattutto hanno azzeccato il cast sempre a differenza di Rollerball ecco per cui la differenza principale con Rollerball è che Death Race almeno se tu ignori la fonte ignori comunque il fatto il protagonista è sempre Frankenstein anche nel remake tra l'altro c'è addirittura la comparsata di David Carradine come come voce di Frankenstein nel prologo anche se difficilmente è letteralmente lo stesso personaggio è più un omaggio diciamo una strizzata d'occhio però insomma se tu ignori queste cose e lo prendi come film a sé lo prendi come film di Jason Statham almeno è un bel film di Jason Statham tutto un altro campo da gioco molte meno pretese tutte le pacchianate che vi potete immaginare qualche scelta artistica invecchiata meno bene di altre per esempio insomma vi si fa notare che se tu fai vabbè è una cosa a suo modo è implicita nel in questi in questi contesti delle corse a squadre perché devi distinguere le squadre un pochino però se tu rimpicciolisci tutto e lo metti nel e lo chiudi nel contesto di una galera tu hai sostanzialmente la squadra dei bianchi contro la gang dei latinoamericani contro la gang dei neri contro la gang degli asiatici e un altro bianco che è stato messo lì letteralmente per dire no è vero visto c'è un altro bianco quindi non è che sono divisi solo per gang quindi fa un po' l'effetto apposto il solito ci metti la minoranza etnica per dimostrare che non fai solo film di bianchi e invece qua ti tocca di mettere un bianco in più per far vedere che non hai fatto il film del bianco contro tutti gli altri considerando poi che il tuo bianco protagonista in realtà è innocente ed è stato incastrato esatto quindi è in galera ma non ci dovrebbe essere considerando che poi si scopre che a incastrarlo erano stati i suoi compagni di galera ecco adesso mi spiace non aver tenuto una foto di Chris Klein per fare il confronto tra lui e Gesù sarebbe stato un bel però forse vediamo anche senza Chris Klein ma si infatti no cioè sarebbero da dire tipo vabbè nel cast di Comprimari c'è Tyrese che fa una gran figura che non è scontato che la faccia Tyrese fa praticamente il personaggio di Stallone mantiene il nome Machine Gun non penso che si chiami Joe Viterbo come Stallone purtroppo si chiama Machine Gun Tyrese Gibson a suo modo rende cioè fa una cosa diversa fa stranamente quello che non faceva all'originale ovvero lui qua fa il pilota omosessuale motivo per cui il suo copilota è un altro maschio quindi questo il film si dimostra moderno e una cosa che ha fatto impazzire però è che se i copiloti di tutti gli altri sono tutte delle gnocche a paura prese da che ne so dai calendari perché mi viene in mente FHM quei magazine per soli uomini quelle cose lì mi sembra un po' quel tipo di donna lì il sexy meccanico ecco qua quel tipo di rogole invece lui gli mettono come copilato un maschio però gli lo mettono secondo me assolutamente medio a lui gli danno il suo compagno di classe tipo e poi lui lo tratta malissimo però però vabbè no lui comunque fa cioè lui fa Tyrese senza la parte scema che è venuta fuori con Fast and Furious però il resto fa fondamentalmente quel personaggio lì e gli viene bene è grosso c'ha il carisi diciamo che il film funziona come specie di prequel alternativo di Fast and Furious sia con Tyrese che con Jason Statham ma senti sto sentendo qualcosa che esplode Stadio mi preoccupo ah no è un antifurto fuori credo adesso arriverà spero non si è saltato in aria con una mina anti uomo o qualcosa del genere non so allora sempre nel cast vale la pena comunque nominare Ian McShane che mi sembra che tu l'abbia messo McShane che comunque è veramente sì qualsiasi cosa faccia la fa sempre bene qua cioè ci sta proprio ci sguazzano nella stessa nella stessa foto il tizio a sinistra vorrei sorvolare lui è lui interpreta un personaggio chiamato Script Supervisor credo non so chi sia l'attore si chiama Frederick Kohler non so cos'altro abbia fatto nella vita qua gli fanno fare l'autistico che deve dare tutte le informazioni di sceneggiatura che servono per andare avanti nel film quindi è quello che sa tutto che sa le regole che sa la biografia degli altri hanno detto ora il migliore degli Anderson ci sono due modi per spiegare le cose o fai tipo quei fermi immagini fighissimi il fermo immagini sulla faccia del protagonista con la scritta con tutto il suo curriculum oppure c'è Metti Rain Man che te lo racconta boh per una volta forse era meglio metterci i fermi immagini alla Gairizzi però non si possono vincere tutte le battaglie un'altra cosa invece che farei notare e lo farei notare prendo questa foto a caso ma sì va benissimo secondo me rende l'idea cioè guardate non guardate lei guardate la foto in generale nel senso la fotografia tutto il film è così cioè questo contrasto altissimo io ci ho messo un po' ad abituarmi perché sembra di vedere un flashback solo che quando ti accorgi che va avanti tu dici no vabbè allora non è un flashback di un'ora e 45 è tutto il film così però è girato con con i colori desaturati ad alto contrasto tipici dei flashback che da uno comunque con il gusto visivo del migliore degli Anderson non mi aspettavo è una scelta che lui non rifà più nei film successivi però insomma questa non me l'aspettavo si vede che la prigione gli ha fatto venire esatto questa cosa abbiamo guarda qua quanto è lei tra l'altro è oltre a essere di una bellezza sconvolgente non ha avuto una carriera è incredibile si si chiama Natalie Martinez giusto? forse perché aveva un nome troppo tradizionale esatto però sostanzialmente non ha non so io l'avrei riciclata in Fast and Furious è vero ha proprio quel physique du role e anche quel tipo di personaggio si ma e invece una fazza che non mi aspettavo di vedere perché ha un ruolo platalmente inutile ma vedo che tu l'hai catturata nelle immagini è il buon di Jason Clarke si qua fa ruolo completamente inutile sostanzialmente si ti fa odiare le guardie ti fa il ruolo della guardia cattiva per farti capire che le guardie sono cattive esatto mentre c'è Joan Allen a fare la direttrice al posto del personaggio del presidente degli Stati Uniti c'è la direttrice della prigione che è Joan Allen invece lei mi sembra sembra assolutamente niente da dire assolutamente impeccabile si boh detto questo però cioè ripeto quello che ho detto se ignoriamo la fonte perché non c'è il minimo paragone e lo prendiamo come film medi di Jason Statham per me è tra quelli belli e tra quelli più divertenti non è assolutamente perfetto cioè non ha tutti i suoi pezzi a posto però le corse sono fighe e qualche bella idea c'è c'è questa idea di fare Super Mario Kart con le 8 vere è notevole a me è piaciuta molto quest'idea quella che ti puoi fare l'abbonamento tier come come oggi cioè puoi fare l'abbonamento di livello 1 ma poi poi c'è quello di livello 2 in cui puoi vedere tutte le morti da 12 diverse angolature vabbè era il 2008 non è 75 quindi non è che fosse un'idea futuristica però è carino cioè è un'idea che effettivamente questo tipo di monetizzazione magari nel 2008 non era ancora neanche così diffusissima oggi molto di più sì un'altra cosa che mi è piaciuta molto è questa vabbè si sfasciano no ma in realtà avevo quel filmato che secondo te si può mandare io non la rischierei non rischiamo lo mettiamo domani sì esatto no perché la cosa fondamentale di tutti questi combattimenti è che quando Joan Allen decide che bisogna eliminare Frankenstein perché ha rotto il cazzo tira fuori la blindo cisterna di Mad Max cioè quella cosa è una grossa blindo cisterna dalla quale escono degli altrettanto grossi fucili e comunque è protagonista della scena sfascia tutto migliore del film perché sfasciano la grossa blindo cisterna di fronte a quelle cose anche il resto di tutti i difetti del film dici vabbè pazienza cioè ci sono stato un grossissimo e sta roba va bene lo spirito è sicuramente più cormaniano di quanto lo spirito del remake di Rollerball fosse Norman Juiz o Niano sì sì quel senso sì poi c'è è incredibilmente serio non ha bisogno di essere così serio alla fine a suo modo è diventato un franchise non so se aveva speranza di diventare un franchise vero cioè con i sequel ad alto costo probabilmente no però per assurdo è diventato un franchise di successo con i sequel di tv quelli direttamente in video per cui sono usciti ben tre sequel direttamente in video almeno due dei quali sono sorprendentemente belli Death Race 2 l'avevamo coperto sui calci a suo tempo ed era uno di quei film che erano usciti nel periodo in cui uscivano Undisputed 3 i sequel di Universal Soldier con i diretti da John Iams e quel tipo di roba lì era riuscito a infilarsi in quel gruppo lì di quei film con poche pretese che erano molto più belli di quanto si potesse pensare delle premette non era niente di sconvolgente era un film che era sostanzialmente la versione un po' più cheap di questo però pur essendo fatto con molti meno soldi era assolutamente divertente ben fatta ben confezionata e con certe fatze vabbè c'è Danny Treo nei sequel di Death Race quindi uno qui si fa la mentale ma anche Jason Statham l'hanno sostituito con Luke Goss che ce lo ricordiamo come cantante dei Bros degli anni 80 e poi penso che l'apice di carriera di Luke Goss sia stato il cattivo di Hellboy 2 mi sembra sostanzialmente se ricorda il suono Luke Goss è sempre stato è sempre stato un Jason Statham di serie B nel periodo in cui Jason Statham era ancora visto come la versione di serie B di qualcun altro quindi figuriamoci però Death Race 2 e 3 io me li ricordo assolutamente divertenti cioè in modo decisamente sorprendente per la media di quel tipo di film e poi poi vabbè poi il regista era Royal Rainey che è quello che è finito a girare gli Inhumans per la Marvel e da quel momento ha perso probabilmente la voglia di di fare qualsiasi cosa questo coltiva basilico esatto e poi è giusto citare per dovere di cronaca anche il fatto che Corman qualche anno fa ha voluto fare un sequel diretto di Death Race 2000 dell'originale si chiama se ho sbaglio Death Race 2050 non ha avuto il coraggio di guardare il classico film che l'ha piappato da qualcun altro in redazione però c'è il tipo di recensione una di quelle che potevamo intitolare in sacrificio per voi non l'abbiamo intitolata così però il senso il senso è quello troppo poco troppo tardi il Corman di oggi non ha non ha niente del Corman di una volta per svariati motivi più o meno legittimi qualcun sicuramente legittimo però insomma si può tranquillamente saltare va bene detto questo io direi di passare al momento clu della serata allora facciamo è arrivato un abbonamento ora sbrighiamo immediatamente gli abbonamenti lo metto su grazie mille a Java 90 per l'abbonamento di livello 1 immediatamente per te i ringraziamenti di Tulsa Doom e poi di Camprotti perché sta cominciando a fare campagna per gli Oscar Camprotti favorito agli Oscar Camprotti carichissimo sì sì e direi sigla il momento dei Jimmy Bobo 2000 il premio più amato dai grandi e piccini dove premiamo i nomi più buffi trovati nei ricchissimi devo dire crediti di entrambi questi film abbiamo fatto una selezione difficilissima esatto la prima idea per stasera era quella di farvi votare tra il nome peggio pronunciato da John Travolta il presentatore abbiamo lasciato perdere siamo andati a pescare tra Death Race e Death Race cioè Death Race anno 2000 la corsa della morte e Death Race il fin del 2008 che credo che non fosse quello mai stato tradotto in italiano no Death Race per non confonderlo con anno 2000 la corsa della morte esatto quindi ora vi presenteremo questi cinque nomi accompagnati ciascuno dal suo numerino il quale numerino voi dovrete scrivere in chat se vi ha fatto ridere quando vi daremo il via se siete abbonati come la costituzione il vostro voto vale doppio detto questo possiamo partire con la cinquina di stasera che si apre forse con quello che è il favorito per la vittoria finale mi spiace doverlo dire così se sembra che non lasciamo possibilità agli altri però lui è John Favorite ed è difficile pensare che possa non essere in pole position con il numero due invece non so come dirlo senza prendere e infilarmi dei vicoli ciechi per cui diciamo che è la sorella di Ronnie James perché è proprio lei Wendy Dio Wendy Dio da non confondere a non confondere con Ben di Dio questo è buono questo è buono numero tre invece cosa faccio lo dico lo dico il numero tre lo dico vabbè dai lo dico Gerardo lo dico è proprio lui il numero quattro invece lo dico ma l'ho detto perché è proprio Gregory ma un uomo che vive nel dubbio e anche un po' nel disappunto aspetta un attimo questo è quello aspetta costume design quindi questo è quello che ha disegnato la maglietta ma se ti piace come pensi che si vesta un e infine con il numero cinque un uomo un piccolo snack gustoso ma anche di un doppio senso se volete a seconda di quanto siete innocenti o meno perché è proprio Ken Tarallo i suoi effetti speciali per cui riassumiamo gli effetti speciali del Tarallo con numero uno se vi piace John Favorite numero due per Wendy Dio numero tre per Gerardo lo dico numero quarto per Gregory Ma e numero cinque per Ken Tarallo potete votare a partire da adesso mentre votate possiamo dire che abbiamo dovuto escludere ai noi Sylvester Gardenzio Stallone che mi faceva molto ridere però sarebbe stato poi Marie France Guy che è un uomo francese questa la prossima l'abbiamo esclusa perché comunque siamo persone di una certa eleganza e non ci piace abbassarci a battute facili ma era Julie Mignot anche perché mi è venuto il dubbio che la pronuncia sia francese e quindi Julie Mignot Mignot poi c'era a proposito di pronunce francesi Hans La Liberté che è amico del france cioè un trio con secondo me era uno di quelli non era il nome di uno di quelli dei partigiani di Top Secret non so c'ho questo flash alla fine di Top Secret dove lei li saluta tutti quanti e uno si chiama La Liberté però magari mi confondo è molto possibile infine abbiamo escluso Tino Petronzio Stefano Sbrega Stefano scritto col PH e Pier c'era quella la parte buffa diciamo c'era c'era quella col PH e infine Pier Malo che Scone era già spuntato però è possibile ma ne abbiamo visti di tutti i colori la nostra esperienza decennale di Jimmy Bobo ormai non ci possono più presentare nessuno a Hollywood pensando a ricoglierci di sorpresa esatto uno dice ciao sono Gerardo lo dico ah mi ricordo di te per Death Racer del 2008 è così che si fanno le amicizie esatto va bene direi che avete già votato per cui adesso chiudo i voti smettete di votare perché ho chiuso i voti esattamente adesso quindi carico i risultati ma i risultati sorprendete non l'avrei questo non l'avrei indovinato però leviamo il bannerino ha vinto ufficial ah scusa te l'ho dato ok ha vinto ufficialmente il bannerino ok Kent Arallo Kent Arallo e John Favorite neanche un voto John Favorite ha secondo me ha puzzato subito di di imbroglione a nessuno piace chi chi lecca il culo alla maestra questi dici ora ci sta ci sta congratulazioni comunque anche a Wendy Dio per il secondo posto con battutissimo con Gerardo lo dico non voglio fare delle battute facili ma sono perplesso dalla mancanza di voti per Gregory va bene congratulazioni quindi a Kent Arallo che bello che sono i Jimmy Bobo guarda così metto un jantard commosso così per il concetto dei Jimmy Bobo in generale detto questo vi annunciamo i prossimi appuntamenti e fate molta attenzione per questo appuntamento molto importante parleremo di un noto film che parla di una persona come definirla proletaria proletaria che ha un lavoro molto umile molto umile ma dei sogni dei sogni che sembrano irraggiungibili ma che sa che ci mette tutta la voglia tutta la grinta che può raggiungere ha bisogno solo della possibilità giusta e mentre alla ricerca di questa possibilità giusta incontra un'altra persona con cui ha una bellissima storia d'amore un grandissimo immortale classico flash dance ebbene si è il grande ritorno degli speciali di San Valentino dei 400 calci quella volta all'anno in cui il mondo è al contrario e ci divertiamo e ci divertiamo a recessire qualcosa che normalmente non toccheremmo manco con le mani di un altro standard peggio volevamo insomma siccome giovedì prossimo è il 15 di febbraio è un giorno dopo però non ci frega niente volevamo tornare le vecchie abitudini di fare lo speciale di San Valentino San Valentino è quella volta all'anno dove noi ci divertiamo a fare qualcosa di insolito a fare qualcosa di goliardico a sperimentare questi modi insomma che sono molto lontani da noi i sentimenti guarda che mi viene già da ridere solo a vedere lo sfondo a carnevalata l'amore cos'altro è è una cosa divertente che facciamo una volta all'anno tanto per farci quattro risate in compagnia ci scambiamo i baci perugina cos'altro si fa andiamo fuori al ristorante c'è queste cose pazze insolite così per sentirci un po' più frizzantini ti amo così diciamo queste cose senza senso però insomma affrontiamo per cui sì non è un scherzo parleremo davvero di flash dance e nel farlo abbiamo bisogno di farci accompagnare perché abbiamo molta paura io personalmente ho molta paura almeno per cui ci faremo accompagnare da un ospite specialissimo e sono molto contento di avere con noi giovedì prossimo Eugenia Fattori giornalista podcaster influencer un sacco di cose da persona perfetta per l'occasione siamo molto contenti per cui insomma giovedì prossimo il quindici speciale speciale San Valentino un film dalla trama che era un po' ingannevole diciamo però è flash dance è flash dance ho dimenticato di dire il pezzo grande colonna grande memorabile colonna sonora giusto ho dimenticato di dire quel pezzo lì però che bello che bello non vedo l'ora sono molto contento è un'occasione specialissima e non vedo l'ora di farlo e già non vedo l'ora che sia il San Valentino del prossimo anno per avere un'altra idea ancora più matta che bello quindi giovedì quindici alle ore ventuno flash dance con ospite speciale Eugenia Fattori mentre lunedì sempre alle ventuno appuntamento consueto con le news della settimana e con la rubrica più bella del mondo ovvero che cosa ha fatto già reddetto questa settimana con speciale San Valentino speciale San Valentino chissà cosa fare cosa fare cosa fare Giardeletto per San Valentino secondo me esce con se stessa esce che stavo pensando la stessa cosa si porta a cena si porta a cena da solo e e poi si regala un anello di fidanzamento chissà non vedo l'ora che bello mai avrei aspettato che Giardeletto regalasse veramente una cosa ridicola ogni settimana comunque questo succederà bene detto questo vi ringraziamo tantissimo per averci seguito ringraziamo quelli che ci hanno seguito in diretta ringraziamo quelli che ci hanno seguito in differita perché non siamo indifferenti alla differita ringraziamo Cristiana Liprandi e Dario Cogliati per la video sigla ringraziamo il maestro Ludwig van Verhoeven per la terminodia per le vittime di Valverde ringraziamo i Nanowar of Steel per la 400 calci ciao buonanotte ciao